Sì, due persone che ti piacciono fa un po' paura ed è questo che si sta accadendo. Vuoi sapere come la vedo io? Ora dirvi come la vedo. Io sento che tu vuoi troppo da me. Dai, ma che significa? Scusa. Ma sì, ho la sensazione che tu voglio tutto quello che sono. Lo capisci? Sì, voglio tutto. Perché no? Nick mi ha detto che gli uomini ti invitano ad uscire, ma te gli dici sempre no. Come mai? Ho smesso di uscire, sono in pensione. Ma che significa? Ti è successo qualcosa da piccola? Oddio, ma perché ogni volta che una donna che non vuole essere coinvolta in una relazione, i uomini credono che sia stata adattata male da piccola? Perché? È stata adattata male da adulta. Io non ti tratterò male. Buona la pizza? Sì, è buona. Fino anche ai giorni? Già, è una canzone famosa. Eravamo una coppia ancora prima di conoscerci. Ma non finivano per ammazzarsi? No, lei ha ammazzato lui, quindi parte in vantaggio. Che fai stasera? Gioco a bowling. Alla serata del bowling. Bowling? Sì. Beh, mi piace tanto il bowling. No, no, non è un torneo. E poi, ti non è un impegno stasera? Sì, però quando ho fatto arrivo. No, Johnny, ho bisogno di stare da sola. Per dimenticarti. Ieri sera è successo tutto così di corsa. Grazie. Grazie.